Allora, ora tu mi dici, la situazione vabbè qui è incasinata al massimo, va bene, ok? Tu mi dici, praticamente manca la parola, cioè si presenta dalla porta come per dire io voglio uscire, vorrei anche mangiare qualcosa, è vero? Con quel testino fuori lì, guarda, si avvicina alla porta perché sa che lì c'è l'uscita, veramente? Sì, no, adesso ti apro.